se l'hanno presa possiamo... no ancora uno è la, guarda la zippa pushiamo vai va dentro, va dentro si 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 scendi qua no è di questo camion, non mi sa e invece no, il camion non c'è, è sul lato questo davanti, proprio dietro il load out dietro il load out non lo vedo ok grego non mi pushare ora il tempismo di questo gioco comunque è qualcosa di alloginante c'è la faccia quando la c'è? andiamo pentiamo questo posto è questo posto eccolo crackato ok pentiamo quello che è andato al load out adesso si sta scappando va verso... no non sta scappando no no ve ne verso qua andiamo è da solo lo distruggiamo? vai 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 distruggiamo mi hanno ingecchinato dalla montagna, dalla montagna occhio l'ho pingato pure bombardamento ma ti salvo ti salvo io 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 non so quanti sono dietro di me è grandissimo cazzo cazzo guarda questi come giocano oh che c'è una mila lì l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto eh l'altro lato è preoccupante qua c'è uno io un bombardamento che l'hai fatto quello hai fatto quello one shot no 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 oh no ma te lo non hai la maschera muori muori Ma che cazzo? Non si vede un cazzo! Non si vede un cazzo! Non si vede un cazzo!